Oh, questa poi! Qualcuno ha falsificato la mia calligrafia! Chiamate quel ragazzo! Dona Pina, cosa sono quelli? Cosa sono quelli? Perché sono pericolosa? Perché io sono pericolosa? Abbiamo catturato un manovale, Caterina Uno spazzacanino e un bagliaccio col panciotto acqua Un funzionario e la sua voglia è secca E adesso il cine appiccica, chi catturerà? Sono di cantare le canzone! Ma le ne vanno tutti!